Dai viaggi nel tempo alle sfilate delle meraviglie, dalle maschere cornute alla festa dedicata alle grandi donne. C'è tutto ancora di più nell'esplosione di colore e divertimento che ha animato il martedì grasso di Puglia e Basilicata. Nonostante i nuvoloni e qualche defezione causata dal tempo poco clemente, tantissimi sono stati comuni che hanno omaggiato come da tradizione la giornata che conclude il Carnevale, consegnando grandi e piccini, uomini e donne, al periodo di austerità della Quaresima. Grande festa per la 630esima edizione del famosissimo Carnevale di Putignano, un Carnevale da capogiro in cui il tema è stato il viaggio nel tempo. Protagonista la tradizionale maschera di Farinella, presente in ogni carro, che maestoso ha conquistato il corso e l'attenzione di migliaia di visitatori giunti in città. E ancora meraviglie dalla sfilata di Manfredonia, dove i grandi di Cartapesta insieme ai gruppi mascherati si sono sfidati esibendo caratteri ricercati e un calidoscopio di colori. Settantesima edizione per il Carnevale della cittadina Dauna, che ha visto sullo sfondo il funerale di Zepeppe, maschera tipica del territorio che trova la morte dopo aver cercato il divertimento più puro. E ancora da Cleopatra a Raffaella Carrada, Samantha Cristoforetti a Madre Teresa, fino a Coco Chanel. A Massafra nel Tarantino è la festa dedicata alla grandezza delle donne, tra quattro carri allegorici, undici gruppi mascherati e tantissime maschere che hanno risposto al tema di questa edizione, Wonder Woman. Protagonista indiscussa del martedì grasso Lucano è stata Montescaglioso, con la 65esima edizione del suo Carnevale, dove il gran finale della sfilata ha visto il DJ set di Cristina Marchi, che ha fatto ballare una piazza Roma gremita di giovanissimi. E ancora Daliano con le maschere cornute, che sono state protagoniste di un tour itinerante per l'Italia, che ha toccato anche Roma e Milano. Grazie a tutti.